Benvenuti nel mondo degli orologi Pequignè. Pequignè è un marchio di orologi di lusso francese che ha guadagnato una reputazione di eccellenza nell'orologeria francese. Fondato nel 1973 da Emile Pequignè, l'azienda produce orologi di alta qualità utilizzando tecniche artigianali e materiali di prima scelta. La gamma di orologi Pequignè comprende modelli per uomo e donna, tra cui orologi sportivi, cronografi, orologi da polso e orologi da tasca. Tutti i modelli sono caratterizzati da un design elegante e sofisticato, con finiture artigianali e materiali di alta qualità. Uno dei modelli più noti di Pequignè è il Royal. Il Royal presenta una cassa in oro rosa o bianco, un quadrante in madreperla e una lancetta centrale dei secondi. Grazie alla sua eleganza e alla sua precisione, il Royal è diventato un'icona del marchio Pequignè. Pequignè è un marchio di nicchia che si concentra sulla produzione di quantità limitate di orologi di alta qualità. Questo approccio consente all'azienda di mantenere elevati standard di qualità, offrendo ai collezionisti di orologi di lusso e agli appassionati di orologeria a pezzi unici e pregiati. La precisione e l'affidabilità degli orologi Pequignè sono apprezzate dai consumatori che cercano orologi di alta qualità da utilizzare sia per occasioni speciali che per l'uso quotidiano. Il design degli orologi Pequignè è caratterizzato da una grande attenzione ai dettagli, con finiture artigianali e materiali di prima qualità. La scelta dei materiali utilizzati, come l'oro, il platino, l'acciaio inossidabile e la madreperla, garantisce la durata e la resistenza degli orologi Pequignè. Inoltre, i quadranti degli orologi Pequignè sono realizzati con cura, utilizzando tecniche di stampa e incisione di alta precisione. Gli orologi Pequignè sono apprezzati anche per il loro movimento meccanico, che garantisce una precisione superiore rispetto ai movimenti al quarzo. I movimenti meccanici degli orologi Pequignè sono realizzati internamente, utilizzando tecniche di orologeria artigianale. Questo contribuisce alla loro reputazione di alta qualità e di precisione. Grazie alla sua reputazione di eccellenza, Pequignè è un'ottima scelta per i collezionisti di orologi di lusso e gli appassionati di orologeria che cercano orologi di alta qualità e di precisione. Grazie a tutti.